Juan Quadrado può tornare in Serie A, l'ultima ora è incredibile e ha spiazzato tutti. La big adesso ci sta seriamente pensando.Sorpresa dell'ultima ora per la Serie A, una big vira forte su Juan Quadrado che può restare nel campionato italiano e giocare ancora ai suoi vertici. Ecco chi sta lavorando per prendere il giocatore a parametro 0 dopo la stagione trascorsa all'Inter, con cui ha vinto lo scudetto. Juan Quadrado ha disputato la stagione 2023-2024 vestendo la maglia dell'Inter di Simone Inzaghi e con la squadra nerazzurra di Milano ha anche vinto lo scudetto. Preso a parametro 0 da Beppe Marotta, ha trascorso un solo anno all'Inter e alla scadenza del contratto non c'è stato un rinnovo. È di nuovo, quindi, disponibile su piazza a 0 ed è proprio per questo motivo che a lui si è interessata l'Atalanta. Il club dei percassi è scatenato sul mercato, al netto delle situazioni che stanno riguardando da un lato Copp Mainers, nel mirino sempre della Juve, e dall'altro Luckman, finito nel mirino del PSG, la Dea si sta muovendo soprattutto in entrata. Ha chiuso in men che non si dica per Matteo Retegui, dopo l'infortunio di Scamacca, e per le Isar Samarcic, ma non sarebbe finita qui. Piace infatti molto anche Raul Bellanova del Torino e, sorpresa, proprio lo stesso Juan Quadrado. Per il ruolo di esterno destro, quindi, l'Atalanta sta lavorando per uno di questi due profili. Calciomercato Atalanta, nelle idee della Dea rientra anche Quadrado. I dettagli. L'Atalanta, dopo la partenza di Hateburg che si è trasferito a Rennes, ha inizialmente visto in Wesley del Flamengo il sostituito ideale ma, come reso noto da Sky Sport, le trattative si sono bloccate. Proprio per questo motivo, nelle idee del club è spuntato il nome di Juan Quadrado e non solo dal momento che un'altra pista suggestiva riguarda appunto Bellanova del Torino. Stando sempre a Sky Sport, nelle ultime ore la Dea avrebbe avviato i contatti con l'entourage del colombiano e si sta parlando di un'eventuale esperienza nella squadra di Gian Piero Gasperini. Juan Quadrado ha voglia di far bene dopo l'esperienza all'Inter, in cui ha giocato davvero poco a causa degli infortuni, e questa potrebbe essere un'occasione perfetta per lui.